Ciao a tutti, io sono Nell'IRFA e oggi vi presento un nuovo gioco. Qualche giorno fa ho ricevuto dai produttori una mail dove mi chiedevano gentilmente di provarlo. Mi hanno regalato insieme anche 4 chiavi da poter regalare ad altri amici. Quindi se volete provarlo anche voi, in questo momento questo gioco si trova in TBA, quindi ancora non è uscito ufficialmente, però tramite queste chiavi si può scaricare e provarlo. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mettete la vostra mail e quindi vi farò arrivare qualche chiave, almeno una testa. Allora ragazzi, questo gioco si chiama Shootball Arena, è un veloce gioco multiplayer in cui il calcio e sparatutto in terza persona si incontrano. Puoi scegliere il tuo avatar, impugnare la tua arma favorita e sfidare i tuoi amici in avvencenti partite fino a 10 giocatori. Sono necessarie velocità, agilità e una mira infallibile. Abbiamo tutto questo? Mi senti no. Comunque, l'ho provato un pochino, devo dire che è ancora abbastanza immaturo, insomma appunto come vi dicevo non è ancora del tutto uscito, quindi per poter giocare le partite in due o quattro giocatori non ho trovato il team. Ho provato il tutorial e come potete vedere lo mostro in questo video. Si tratta di un'arena dove abbiamo una palla al centro del campo e dovremo semplicemente impugnare un'arma che possiamo scegliere e andare a fare gol. Insomma, è un giochino abbastanza semplice, niente di pesante da poter fare. Le caratteristiche sono scendi tra diversi tipi di arena in cui giocare, sfida i tuoi amici in avvencenti partite fino a 10 giocatori come dicevo prima, scendi in campo col tuo personaggio preferito, impugna l'arma che più ti si addice, usa diversi power up sparsi nell'arena. Allora, devo dire che comunque ho provato appunto come vi dicevo, ma per esempio per quanto riguarda le armi non mi spiegava la differenza tra l'una e l'altra. Poi c'è da dire che comunque l'interfaccia in lingua italiana o anche lo trovate in lingua inglese. Si tratta di un gioco che trovate esclusivamente per il momento su Steam e che altro dire, se lo volete provare come vi dicevo prima scrivetmelo qui sotto nei commenti. Allora ragazzi, ripeto, questo gioco si chiama Shootboard Arena, non c'è tantissimo da dire a riguardo perché è molto semplice. Lo sviluppatore, mi sono dimenticata di dire, è il Zocca Light. Intanto ragazzi vi invito anche a farmi sapere se avete bisogno di qualche altro video guida, se volete vedere qualche altro tipo di gioco, fatemi sapere un po' la vostra opinione perché siete sempre molto resti a scrivere qui sotto nei commenti, cosa che invece aiuta moltissimo invece a indicizzare meglio un video. Ok ragazzi per oggi ho terminato, fatemi sapere la vostra opinione, ciao a tutti e alla prossima!